no io non si via capolosa io non so questo scema dovevano mangiare la borsa e ora cosa hanno fatto? mi hanno spettato una coronaria quindi è andata bene è venuto a casa va a vita qui va a vita a letto è venuto a casa 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 è eventa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.